Niente più code agli sportelli degli uffici demografici del Comune di Bari per prenotare e ritirare un certificato di residenza piuttosto che la nuova carta d'identità. Per l'assessore ai servizi demografici Angelo Tomasicchio basterà un click per risparmiare tempo ed energie. Il progetto sperimentale di prenotazione online di alcuni servizi demografici è stato presentato questa mattina nella sala giunta del Comune. Dalla procedura di accesso al portale al sistema di prenotazione è tutto semplificato. Funzionerà come un'agenda. Via internet il cittadino potrà prenotare un appuntamento con un operatore della ripartizione, scegliendo la data, l'ora e la sede più comoda dove recarsi. Sarà così possibile evitare le code e ridurre i tempi di attesa organizzando al meglio il lavoro degli addetti agli sportelli. Il progetto è realizzato dalla Lynx Management and Technology S.p.A., affidataria del servizio di manutenzione e gestione della piattaforma di governamento del Comune di Bari. Si tratta di un servizio di prenotazione che i cittadini potranno fare direttamente a casa e potranno programmare un incontro con i dipendenti dei servizi demografici. In pratica i cittadini per poter effettuare dei cambi di residenza, iscrizioni anagrafiche, prenotare la sala dei matrimoni in largo anticipo oppure dover rifare la carta di identità cartaceo ed elettronica potranno collegarsi sul sito del Comune di Bari in un apposito link che rimanderà al cosiddetto sistema automatico di prenotazione online servizi demografici. Dovranno loggarsi, iscriversi, registrarsi e poi successivamente le apparirà una schermata con tutti i mesi disponibili e le date e le ore disponibili per prenotare un appuntamento con il dipendente. Ma quando sarà operativo il sistema e soprattutto quali servizi sarà in grado di garantire? Il servizio sarà attivo presumibilmente intorno alla metà di ottobre. In via iniziale, nella fase iniziale, si potranno effettuare due servizi. Quello del rilascio della carta di identità e dei cambi di residenza. Poi, subito dopo, già verso la fine di ottobre, inizio di novembre, partiranno i servizi di iscrizione anagrafica, anche di prenotazione per le carte di identità elettroniche e anche la prenotazione della sala dei matrimoni, che è un servizio essenziale per tutti quei cittadini che vogliono programmare, magari un anno prima, questo servizio. Grazie a tutti.